Buonasera ragazzi, mui mai che è per voi! Stasera si è live trailer reaction dedicata ai videogiochi, infatti oggi le versioni sono in versione videogames mics, si parla del trailer in italiano sottitolato per PS4 e Death Stranding, l'ultima fatica di Kojima prodotta da Sony dopo l'addio di Konami dello stesso Kojima. Ci dovrebbe essere del gameplay, del trailer che dura quasi 9 minuti e anche la data di rilascio che dovrebbe essere entro fine anno. Pronti ragazzi? 3, 2, 1, via! Non è partito? Partiamo adesso. Eccolo qua! Per il video che si tratta di un video con il video. Grande Mads Mikkelsen, grandi mezzi futuristici, che grafica ragazzi, il nostro caro Sam, deputato dal Daryl di Wackenden. Brigitte, sei il Presidente di Jack Shade. 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 GANOOR Graficamente è qualcosa di incredibile. Una madonna! Chi è regata qui? Non sapevo prima o secondo guerra mondiale? Connessione con qualcosa? Più giovane. Che è incredibile. Ambientazione alla batteria, ma sono di certo inferiore, come grafica. E' veramente impressionante. L'impressione della qualità visiva di... Accupersione, Sam Normarelli, Cliff Matt Mackinson, Fragile Asseidu, Mamma Margaret Quiley, Deadwood Guillermo del Toro, Halton Issa, Wendy Rance, Diadna, X-Toi Baker, Ancora, Amelie Linzer Wagner. Per senare. e i miei personaggi sono iniziati e i miei personaggi sono iniziati e i miei personaggi sono iniziati e questo è il risultato Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, ho trovato il grafico decima, mi sembra l'Apocalypse Now qua? No sento parola la comanda Ekojima, Ekojima sto film qua, sto gioco qua, Ekojima Mamma mia, 8 novembre 2019, aspetta un attimo, aspettate un attimo scusate, intanto vogliamo finire qua Ok, preordinato su Amazon, il futuro, il domani è nelle tue mani, ecco lo slogan Mamma mia ragazzi Eccolo BB Mamma mia ragazzi, Cosima Productions Sembra che non sia mai stato alla Konami, mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi, un applauso, un applauso, quindi praticamente quest'anno il Sony non si presenta alle tre Chi se ne frega, se fate gli annunci del genere non c'è bisogno di andare alle tre Magari il prossimo anno, ma che prossimo anno? L'8 novembre esce L'8 novembre, appena l'8 novembre, ragazzi non ci credo, è incredibile Un trailer straordinario, nove minuti intensi con un gameplay che ti fa già capire più o meno un po' niente della storia Ma un po' più o meno come potrebbe essere il gioco Ragazzi, non ho parole, non vedo di rivedermelo Guardatelo, lasciatemi dei commenti sotto in descrizione A me è sembrato qualcosa di incredibile, tutta questa attesa, tutta questa paura che non uscisse mai più Mi sembra tutto finito lì Guardatelo e ditemi il vostro parere A me sembra... Mi sembra rivedere Metal Gear Solid, versione della Sony Mi sembra rivedere Kojima che è tornato ad essere un grande Ragazzi, non mi resta che salutarvi, da vi saluto E alla prossima reaction Ciao